Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo dedicarlo al sistema operativo Windows 10. In particolare vi farò vedere la funzione che consente di spengere il pc in maniera automatica, ovvero da solo. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Quella che sto per spiegarvi è una funzione molto utile a chi fa upload di video su YouTube perché spesso alla fine del processo di editing, quando cominciamo ad uploadare il video stesso, non abbiamo la voglia di stare lì al computer ad aspettare che l'upload venga completato. Allora in base al tempo di caricamento che ci dice YouTube, imposteremo lo script alla fine del tempo di upload, dando sempre un certo numero di minuti di margine. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è cercare l'utilità di pianificazione. Qui in basso a sinistra, dove c'è la ricerca di Cortana, scriviamo pianificazione. Il sistema ve lo trova già, ci clicchiamo sopra e andiamo a eliminare lo script che io avevo già precedentemente impostato. Dopodiché si dovrà cliccare sulla voce creatività di base. Diamo per esempio il nome spengimento, poi clicchiamo avanti in basso a destra. Qui possiamo scegliere se far ripetere l'azione in base alle voci che sono presenti ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, una sola volta, all'avvio del computer, all'accesso dell'utente, alla registrazione di un evento specifico. Ma queste ultime voci non sono quelle che ci interessano. Io uso sempre una sola volta. Fatto questo, clicchiamo su avanti, impostiamo data e ora, per esempio ora sono le 21.17 del 26 aprile, possiamo dirgli di farlo spengere alle ore 22 per esempio. Fatto questo, clicchiamo in basso a destra su avanti. Il sistema ci chiede specificare l'azione da eseguire con l'attività, avvio programma, questa è l'opzione giusta. A questo punto dobbiamo inserire la voce dello script che è shootdown spazio trattino s. Spazio meno s. Fatto questo, andiamo su avanti. Il computer ci chiede di confermare questo programma e di farlo eseguire, ovviamente sì. Fatto questo, in basso a destra, fine. Ecco, praticamente lo script è pronto. Infatti se andiamo in libreria utilità di pianificazione, scorriamo il menu, sono tutti in ordine alfabetico, troveremo lo script appena creato, spengimento, pronto, con l'orario e la data di spengimento e la voce, l'attività non è ancora stata eseguita. Lo script praticamente è fatto. Dobbiamo far altro che chiudere l'unità di pianificazione e aspettare l'orario per farlo spengere. Viceversa, se lo vogliamo eliminare prima di farlo eseguire, basta cliccare sul tasto destro, sulla voce spengimento, eliminazione, sì e confermare. A questo punto lo script è stato eliminato. Questa è una funzione molto molto utile. Ovviamente non serve solo nel caso del youtuber, ma serve a tutte quelle persone che magari hanno dei programmi che lavorano in background o stanno lavorando su un dato progetto in maniera automatica, non hanno tempo e voglia di aspettare la fine del lavoro, si imposta lo script e si decide l'orario di spengimento. Bene ragazzi, io ho terminato. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile, mettete un bel like. Se avete domande, fatele sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.